Sì, sono Eugenio De Luca e sono nato a Formia 51 anni fa e sono un artista visivo e mi muovo su vari campi e da vari anni a questa parte compio delle azioni non autorizzate e dette blizza, che sono delle incursioni che creano un inceppamento di pensiero nell'ambito romano e nazionale. Quindi sono delle azioni artistiche che attraversano il mondo poetico, politico della nostra Italia e anche della nostra città di Roma. Ci puoi spiegare cosa sono i blitz e quale conseguenza si aspetta che abbiano? I blitz appunto è, definirei, un sorprendere alle spalle la realtà giocandole un tranello, questa è un po' la frase che ripeto da un po' di tempo. E sono appunto un modo di attraversare il quotidiano mediante un segno trasversale che è quello artistico, che appunto incempa a un meccanismo di pensiero più stereotipato, più codificato. Queste azioni attraversano appunto il mondo dell'arte come quello politico e sociale. Sì, le conseguenze che mi aspetto di creare nelle persone sono molteplici. Semplicemente mi aspetto di inceppare un meccanismo, un pensiero e crearne uno nuovo. Ma sono anche pensieri minimi di piccole frizioni mentali che credo di provocare, di innescare nella mente delle persone. Le conseguenze legali fino adesso nessuna, nessuna di una certa gravità. Tutto è andato liscio fino adesso e ti parlo di dieci anni a questa parte. Insomma, quindi per adesso a livello legale tutto a posto e a livello mentale sempre più positivo. Vediamo una pillola sul suo progetto Sottosale. Ce lo potrebbe commentare? Va bene, vediamolo. Questa enorme distesa di sale mi fa pensare alla capacità che ha questo minerale di conservare. L'idea è un po' questa qua, di pensare alla conservazione, a qualcosa che trattiene attraverso il sale, ricordo, la memoria del passato, rendendola sempre attiva e presente. Collocare delle voci degli abitanti di Margherita di Savoia sotto il sale. Registrare qualcosa che è in balia del tempo e invece si vuole bloccare e fermare perché è talmente preziosa da tenerla gelosamente dentro di sé. Un progetto è nato qualche mese fa, i primi di settembre. Sono stato invitato da un festival, la Puglia Land Art Festival, a realizzare un progetto speciale. Questo progetto è nato i primi di agosto come idea ed era quella di confrontarmi con un contesto molto bello, pieno di stupore, come quelle delle saline di Margherita di Savoia in Puglia appunto. E la mia idea è stata quella di distottrarmi, farmi da parte da un punto di vista visivo e agire attraverso un altro linguaggio che è quello sonoro dell'audio. E quindi ho girato per le vie di questa cittadina, di Margherita di Savoia, chiedendo alle persone quale fosse per loro un ricordo così prezioso da conservare eternamente, quindi da mettere sotto sale letteralmente. Alla fine l'installazione consisteva in otto cuffie, da cui fuoriscivano da sotto il sale questi audio, queste voci registrate di questi abitanti in cui narravano cose più disparate, delle cose più affettive, più intime, cose anche più leggere, più ironiche. Comunque tutti i ricordi che loro avevano messo sotto sale e avrebbero conservato per tutta la loro vita. Perché ha deciso di fare questo genere di arte e quali problemi li ha portato con le autorità a effettuare i blitz? Appunto la decisione non spetta a me, in quanto sono cose che arrivano all'improvviso, in maniera del tutto spontanea, in assenza di strategia. Ti parlo di vari anni fa, più di dieci anni fa, ho sentito il bisogno di rompere una scena politica collettiva cittadina attraverso delle incursioni e delle azioni trasversali che fossero qualcosa di difficilmente catalogabile. Attraverso appunto una partecipazione artistica e politica nella vita collettiva ho sentito il desiderio di inceppare un meccanismo e dare anche un altro punto di vista della nostra vita quotidiana attraverso tanti blitz, ormai saranno più di 25 sicuramente. Le conseguenze? Fino adesso nessuna, perché avendo sempre un avvocato alle spalle che molto sapientemente mi consiglia cosa fare e cosa non fare, ho avuto comunque la fortuna di scampare sempre ai vari controlli delle forze dell'ordine. Anche perché il mio messaggio non è mai così offensivo, unidirezionale, ma ha sempre più interpretazioni possibili, è sempre stratificato con più livelli di lettura, quindi non c'è mai un gesto, un'immagine, un suono così aggressivo, offensivo, come qualcosa di più sottile e più leggero, tra virgolette, da leggere e da lasciare all'interpretazione della gente. Faccio un invito a credere nell'arte e nella cultura come via di salvezza? L'invito, sì, questo mi viene molto spontaneo, nel senso credo che nella vita si abbia la fortuna anche di incontrare persone, e di percepire certe modalità di vita proprio. Fare l'artista, essere artista, vuol dire lavorare in un campo bellissimo e prendere e percepire tutta la bellezza della vita, tutta la potenzialità, l'energia. Quindi l'invito è molto facile per me, nel senso di vivere appieno la propria vita, qualsiasi scelta si faccia, con un animo creativo, con uno spirito culturale nel senso più alto del termine. Cioè la cultura vuol dire godersi pienamente la vita in tutte le sue sfaccettature, dall'arte, dalla musica, dalla pittura, ma anche da un punto di vista musicale e tante altre forme di creatività come la poesia, la scrittura, che sono forme illuminanti e bellissime. Rivolga un saluto a Pop Web. Un grande saluto, un in bocca al lupo a tutti voi e alla prossima. Ciao ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.